Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio sulla 115 nel tratto Vittoria Gela. A perdere la vita Santo Chipinti, albergatore di 72 anni, originario di Akatem, ma residente da anni nel capoluogo Ibleo. Il sinistro si è verificato dopo le 17 alle porte del comune Nisseno. L'albergatore viaggiava al volante della sua Mercedes quando si è trovato letteralmente davanti una Ford Focus con a bordo due persone che dai primi accertamenti sembra abbia preso troppo larga una curva andando a impattare con l'auto del 72enne. Violentissimo l'impatto che non ha lasciato scampo a occhi pinti, l'albergatore è morto sul colpo. Soccorsi e trasportati in ospedale i due occupanti della Focus che hanno riportato fortunatamente solo ferite lievi. Sul posto la polizia stradale per i rilievi di rito. L'albergatore, uomo assai noto a Gela per aver gestito per anni la mensa del petrolchimico, lascia moglie e due figli.